Juve svolta nel caso stipendi, ecco cosa rischiano i bianconeri. Una delle stagioni più complicate di sempre, la seconda consecutiva per la Juventus senza alcun trofeo, è definita folkloristica da Massimiliano Allegri, sta per concludersi. Dal caso plus valenze al caso stipendi, le vicende extracampo bianconere hanno influito tantissimo. Per quanto riguarda le plus valenze, la Juventus è stata penalizzata di 10 punti per la manovra stipendi. Invece il club bianconero e la procura federale hanno raggiunto un accordo. La Juventus ha patteggiato a Mende, penalizzazione di pochi punti oppure Massimulta, le due ipotesi. Sembra sia per chiudersi dunque anche il secondo filone di inchiesta sportiva. L'obiettivo della Juventus è quello di non avere penalizzazioni nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa con il capo della procura federale, Giuseppe Chinè, è stata molto lunga. Ma alla fine i bianconeri sono riusciti a trovare un accordo. La Juventus ha scelto la strada del patteggiamento. Per i bianconeri sarà fondamentale mantenere almeno un posto europeo. Nel caso in cui la UEFA dovesse stromettere la Juventus dalle prossime competizioni, la squalifica andrebbe scontata subito. Quindi se la vecchia signora dovesse ad esempio conquistare, nonostante la penalizzazione, un posto in Conference League e la UEFA poi dovesse decidere di squalificare i bianconeri, la società nella prossima stagione, pur non partecipando alle coppe europee, inizierebbe comunque a darmi pari con le altre squadre, con la possibilità poi di giocare nell'annata successiva per la coppa a cui si sarà qualificata.